Benvenuti Felicini! Oggi vi farò vedere le lavagnette magnetiche per bambini, con penna magnetica per imparare a scrivere lettere e numeri in modo corretto e felice. Un grande aiuto nel realizzare la prescrittura. Sulle lettere è disegnato anche il verso in cui il vostro bambino dovrà disegnare le letterine, sia in stampatello che in corsivo, o anche i numeri. Come passeranno la penna magnetica sulle lettere? Subito le palline verranno attratte e saliranno in superficie, così da formare la lettera o il numero. Per cancellare basterà passare la mano sulle lettere e le palline cadranno giù. Insomma, uno strumento utile per i bambini più pigri che non amano tenere la matita o il colore in mano. Si divertiranno a vedere le palline magnetiche e intanto impareranno a riconoscere lettere e numeri e piano piano anche a scriverli. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. E mi raccomando, condividete! Ciao ciao felicini, al prossimo video!